Un sistema di attrezzature ARVA verrà installato sulle piste sciistiche di Campo Imperatore dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo. Si tratta di un trasmettitore di frequenza che, nel caso di valanga, permette di rilevare ancora più tempestivamente il corpo eventualmente travolto. Il nuovo rilevatore verrà installato fino alla fine della stagione in tutti i principali comprensori sciistici della Regione, a partire da Campo Imperatore, che, come gli altri bacini, presenta un rischio di valanghe molto elevato. L'annuncio è stato dato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo nel corso della conferenza stampa di presentazione della Carta Storica delle Valanghe Abruzzesi, un documento redatto in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, che riporta la cronistoria degli eventi valanghivi dal 1957 ad oggi. In fase di preparazione ha poi annunciato l'assessore regionale alla Protezione Civile Gianfranco Giuliante la cartina del pericolo dei 21 bacini sciistici d'Abruzzo. Trasmettitore di radiofrequenza, a disposizione dei comprensori sciistici, perché questa scelta? Intanto è una scelta di prevenzione e di soccorso, in una situazione nella quale anche recentemente la nostra Regione ha visto purtroppo degli eventi che hanno comportato la perdita di vinte umane. Qual è il livello di rischio della nostra Regione? Il livello di rischio della nostra Regione è abbastanza alto. Abbiamo circa 182 km quadri del nostro territorio, al di sopra dei 2.000 metri di quota. È una Regione per livello 3 per quello che riguarda il rischio valanghe, oltre metà del territorio, è in territorio montano, sopra i 600 metri. Di che cosa si occupa la protezione civile? Facciamo i piani di sicurezza per i bacini sciistici e rilasciamo il certificato di immunità da rischio valanghe. Mi spiego meglio, se bisogna realizzare una pista nuova, chiedono a noi di verificare se c'è la possibilità che questa pista sia investita da valanghe. Dal 1986 ad oggi sono in tutto 48 le persone che sono state travolte da una slavina. Considerata poi la scarsa diffusione della strumentazione di autosoccorso, il responsabile dell'ufficio valanghe della protezione civile regionale, Sabatino Belmaggio, invita di nuovo alla prudenza, prima di avventurarsi su fuori pista in caso di bollettino meteo-montavverso. Soprattutto poi dopo i recenti fatti di cronaca, l'ultimo, in ordine di tempo, quello di Roccaraso, dove i quattro snobordisti hanno provocato una valanga. Allora, prima cosa vanno rispettate le regole. La responsabilità è sempre del gestore all'interno del bacino scistico. Sciare nei nostri bacini è una cosa che si fa attualmente in completa sicurezza perché l'attenzione dei gestori è sempre molto alta. Chiaramente sono da evitare alcuni comportamenti, quale il fuori pista, soprattutto nelle aree sovrastanti piste da sci. Dell'altro giorno la notizia a Roccaraso di quattro snobordisti che sono usciti fuori dagli ordinari percorsi e hanno provocato una slavina sciando in un'area fortemente a rischio. Ecco, qui sul tavolo vediamo tutta una serie di apparecchiature e ci vuole spiegare a che cosa servono. Allora, non è che sia vietato sciare fuori dalle piste. È un'attività che va fatta rispettando le regole e adottando determinate strumentazioni che permettono l'autosoccorso. Una di queste è l'Arva, che è questo apparecchio blu piccolino che vediamo qui, che è praticamente un apparecchio che se indossato dallo sciatore permette a chi scia insieme a lui di procedere a una ricerca del travolto in valanghe in maniera più veloce. L'apparecchiatura che presentiamo oggi è un campo Arva, è un'attrezzatura che serve ad esercitarsi alla pratica dell'autosoccorso con ricerca con apparecchio Arva. La daremo in gestione a coloro che operano per la sicurezza sulle piste, corpo forestale, esercito, polizia e la renderemo stabile su a campo imperatore in maniera tale che chi va a fare un'escursione fuori pista potrà recarsi prima all'interno del campo Arva, verificare il funzionamento della propria attrezzatura in ricezione e trasmissione e poi fare l'escursione con un po' più di sicurezza.